Sono passati oltre 30 anni dalla scomparsa di Ilenia Carrisi, un enigma che rimane ancora senza soluzione. La giovane è sparita misteriosamente a New Orleans il 31 dicembre 1993, dopo aver lasciato gli studi di letteratura per inseguire il sogno di girare il mondo con uno zaino e un diario. L'ultimo contatto con la famiglia risale al 1 gennaio 1994. A New Orleans Ilenia aveva incontrato Alexander Masachela, un trombettista di strada con precedenti per tossicodipendenza e molestie. Nonostante condividessero la stessa stanza, Masachela non ha denunciato la scomparsa di Ilenia e non è stato reperibile dalla famiglia. La polizia ha avviato le indagini solo dopo che Masachela ha cercato di pagare il conto dell'hotel con assegni turistici non firmati appartenenti a Ilenia. Masachela è stato arrestato il 31 gennaio, ma successivamente rilasciato per mancanza di prove. Romina Power, madre di Ilenia, ha sempre creduto che Masachela fosse responsabile della scomparsa della figlia, sospettando che l'avesse coinvolta in un giro di tratta di esseri umani. Recentemente, dopo 30 anni dalla scomparsa, Romina Carrisi ha ritrovato un oggetto appartenuto a Ilenia, un golden book su cui la ragazza aveva scritto il suo nome. Questo ritrovamento ha riportato alla mente molti ricordi, trasformando un semplice oggetto in un prezioso legame con il passato. E tu cosa ne pensi della notizia? Lascia un like e un commento. Grazie!